Musica Sera avete la possibilità di farlo, di andarli a vedere, correre per queste strade E' una emozione straordinaria, vi assicuro su questi passi vedere queste macchine, sembra di essere ritornati dietro E' una sensazione bella, ancora in cui lei ha fatto, è benissimo con le stelle e con la luna Allora dicevo che la prova finale per tutti i piloti e per il loro navigatore è quella del laghetto Riservata però ai migliori, ma c'è anche una gara di sci che precede la manifestazione Perché centinaio di equipaggi alla partenza per questa Winter Marathon 100 vetture significano molto per una gara di autostoriche Vuol dire che è una manifestazione che più va avanti negli anni più centinaio Vuol dire che è un'amica Vuol dire che è un'amica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.